Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, io sono Fiona, Luca fa le facce dietro e quindi mi distrae. Ci troviamo al Mobile World Congress 2017 e qui a Barcellona ho visto una cosa fighissima che mi piace un sacco e non potevo non mostrarvela. Si tratta di Giroptics o Giroptics o Giroptics perché i ragazzi qua dietro sono francesi. Si tratta di una fotocamera per iPhone che si attacca direttamente nell'ingresso della ricarica, infatti ho il telefono al contrario mica per niente e permette di trasformare lo smartphone in una fotocamera in 360 gradi, è fighissima, è già disponibile online, costa 249 euro, per adesso funziona con iPhone. La figata è che vedete, non so se li vedete qua, questa è la visione, potete scorrere con il dito, con Giroptics potete registrare video in 2K e foto in 4K. La cosa che ha attirato di più la mia attenzione è la possibilità di andare direttamente live sui social, per ora potete farlo solo con YouTube ma ci stanno anche lavorando sulla versione per Facebook e io non vedo l'ora di provarla. La fotocamera non è nient'altro che un piccolo device, funziona in questo modo. La vedete com'è fatta? L'attaccate direttamente e ok, eccoci qua, di nuovo. Potete scegliere la modalità video o la modalità foto. L'idea secondo me è molto molto carina e sarei anche curiosa di provarlo. Intanto dal Mobile World Congress è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!